Benvenuti in questa edizione straordinaria del TG, siamo commossi ed emozionati nel darvi questa eccezionale notizia, su dal cielo appare una scia luminosa con scritto sopra sono il signore e sto tornando sulla terra. Che bella notizia telegiornale, stanno annunciando la fine del male, e il bene che vince, e il male che muore, sta ritornando nostro signore. Niente più guerre, tutti a pregare, è giunta l'ora della pace mondiale. Svette di mano, abbraccia un sorriso, tra poco la terra sarà un paradiso. Ma su al governo, sono preoccupati, e gli stipendi saranno dimezzati. I poveri invece, stanno ridendo, l'ora in avanti andrà tutto meglio. Caro signore, un ponte d'amore, illumina il mondo che ha tanto dolore, e aiuta chi soffre, e chi muore di fame, ferma il maligno e il criminale. Ma su al governo, sono preoccupati, e gli stipendi saranno dimezzati. Ma su al governo, sono preoccupati, e gli stipendi saranno dimezzati. Ma su al governo, sono preoccupati, e gli stipendi saranno dimezzati. l'ora in avanti andrà tutto meglio. Ma su al governo, sono preoccupati, e gli stipendi saranno dimezzati. Oh! Ma su al governo, sono preoccupati, e gli stipendi saranno dimezzati.